E' una presentazione con merito a questa discoteca, 1936, una città spagnola di nome Ghermica è sottoposta alla guerra civile, 1937 un grande artista, quale Picasso, disegna questo quadro che vedete rappresentato, 2009, tre giovani artisti aquilari decidono con voglia e impegno di far ripartire questa città in questo modo, Madame Messier, ladies and gentlemen, da questo momento in poi, il Consolio, noi, sua maestà, Claudio Scraggio 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 E' un'altra cosa, Claudio Scraggio 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 E' un'altra cosa, Claudio Scraggio 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 Scra